Si è svolta in mattinata la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto di Teramo Fabrizio Stelo riguardo la partita di calcio tra Teramo e Giulianova prevista per domenica 1 ottobre allo stadio Bonolis di Teramo. Hanno preso parte alla riunione i vertici delle forze dell'Ordine cittadini, i sindaci di Teramo e di Giulianova e i presidenti delle società calcistiche. Un appello alle tifoserie apre il prefetto che sia uno spettacolo dal punto di vista sportivo e non si trasformi in un evento a rischio. Volutamente ci siamo mossi con largo anticipo, la partita è fra una decina di giorni e nel frattempo ci sono altre due giornate di campionato ma abbiamo voluto proprio partire appunto con largo anticipo perché sappiamo che la rivalità di questa partita è molto sentita. È una partita che torna dopo 15 anni, noi siamo molto contenti che ritorni questo derby e speriamo che se ne possano disputare anche altri in categorie anche superiori. La riunione, che non sarà l'ultima visto il largo anticipo rispetto al match, ha visto un dialogo sull'afflusso, sul momento della partita e sul deflusso delle tifoserie che saranno comunque separate in tutte e tre le fasi per evitare disordini. Sarà inevitabile, chiude il prefetto, che vengano prese alcune precauzioni e siano messi in campo alcuni divieti ma siamo fiduciosi del fatto che non ci saranno problemi. Ovviamente avremo tutta la prossima settimana per definire i vari dettagli tecnici sull'afflusso, sulla partita, il momento durante la partita e il deflusso delle due tifoserie per evitare anche contatti. Noi siamo assolutamente fiduciosi, siamo convinti che la stragrande maggioranza di entrambe le tifoserie verranno solo per tifare, per lo sfottone confronti della tifoseria rivale. Per il momento nessun divieto, qualche divieto ci sarà, qualche ordinanza del sindaco, anche per la gestione dei parcheggi per tenere separate le due tifoserie, tutti aspetti tecnici che verrà valutati soprattutto nel tavolo tecnico della questura e comunque appunto per questo siamo partiti oggi, proprio perché abbiamo una settimana di tempo per definire ogni singolo dettaglio.